Con Salvatore Florimbi, Assessore del Comune di Pietracamela, parliamo dell'estate che sta arrivando. Ci siamo ormai all'estate e gli eventi a Pietracamela, ce n'è uno su tutti, il concerto di Ron, il 2 luglio. Sì, si terrà il 2 luglio alle 18.30 a Pratiti di Pietracamela. Ron segue il concerto dei vecchioni dello scorso anno. Pensiamo che quest'artista possa interpretare con i suoi 40 anni di storia musicale questo genere di turismo che vorremmo per ripartitivo. E altro c'è? Esatto, non è solo il concerto di Ron, ma ad esempio si inizia il 24 giugno con un evento molto importante, un evento nazionale molto importante, che si chiama Una Boccata d'Arte, dove un giovane artista, nel caso specifico nostro Simone Carraro, che è un giovane artista veneto, ha elaborato un progetto realizzando delle opere che verranno presentate il 24. E l'artista ha scelto di lavorare su un tema che è quello degli animali che animavano il paese negli anni passati. E l'evento si chiamerà Sagra dello Lucerto, non perché si mangeranno le lucertole ovviamente, ma perché l'artista ha inteso sviluppare questo tema. Poi avremo una serie di eventi importantissimi, dall'Ultra Trail del Gran Sasso di luglio al Festival dell'Arrampicata, la settimana successiva ci sarà il Festival dell'Arrampicata, poi ci sarà Borgo in Arte, ci sarà anche un concerto dei Fazzi Dice il 16 di agosto ad Intermesoli, e poi ogni sabato e domenica, ma anche durante la settimana nel periodo più caldo, ci saranno degli eventi sportivi che saranno sponsorizzati dal Comune di Piracamela e realizzati dai professionisti della montagna che operano sul territorio.